Sono 15 anni amici miei che viaggio e vado in Borgogna, sapete che è la mia grande passione ed è raro trovare un domain, un produttore, che in qualche modo è fuori dai riflettori. Devo dire che parlando del domain di Jean-Pierre Bouillon, per molti anni è stato decisamente fuori dai riflettori. Questo è stato un bene, amici miei, perché ancora adesso, sebbene siano un po' saliti, i suoi prezzi fanno ancora tutta la differenza del mondo insieme alla grandissima qualità che Jean-Pierre riesce a esprimere nel bicchiere. Jean-Pierre è principalmente un viticoltore, un vigneron, un classico vigneron francese che non ha grande capacità di marketing, di parlare di vino, lui sta nelle vigne, punto e basta. È interessantissimo sapere che ha soprattutto dal punto di vista della proprietà grandi vigne, vigne importanti e soprattutto ha vigne avon romanè, amici miei, la perla della Côte de Nuit. Oggi parliamo e degustiamo assieme il Vond romanè 2015 di Jean-Pierre Bouillon, circa 9 ettari, che è posizionato in Côte de Nuit con circa il 60% delle viti e il 40% anche in Côte de Bon. Vinificazione molto naturale, lui è sostanzialmente in biologico dal 2006 ma ottiene la certificazione nel 2012. Utilizzo di legno nuovo molto limitato, ad esempio in questo caso abbiamo solo un 30% di botti nuovi e 70% invece di botti molto vecchi. Sapete che a Vond romanè vengono prodotti e ci sono i Pinot Noir 100%, Pinot Nero ovviamente, fra i più ammalianti, fra i più orientaleggianti, là dove le spezie la fanno da padrone e anche in questo caso vedremo che davvero fanno tutta la differenza del mondo. Guardate questo colore rosso rubino con un leggero riflesso granato sull'unghia, bellissimo colore, amici miei. Da terreno calcario, da granito perché c'è una parte di granito nelle vigne di Jean-Pierre e naturalmente argilla. Il naso è leggermente piccante e poi è speziato. C'è del pepe, c'è una nota di chiodi di garofano e anche di noce moscata. Mamma mia, c'è intensità, non esageratamente perché dovete cercarvela, dovete chiudere gli occhi e dovete sentire i vari profumi. In bocca è una bomba atomica, amici miei. Leggera nota di vaniglia, il legno è comunque molto ben integrato. L'annata è un'annata generosa, mediamente calda, ma tuttavia con una bella materia, con una bella freschezza, grande possibilità di evoluzione. Le spezie la fanno da padrone, è un vino lungo, ampio, un vino che nel middle palate vi dà grandi sensazioni di stabilità. Tannino quasi inesistente, davvero molto molto morbido. Jasper Morris, master of wine inglese, dice che è rimasto incredibilmente folgorato dai vini di Jean-Pierre Guillon, da quando lui ha pubblicato delle notizie naturalmente è iniziata e c'è stata grande corsa all'acquisto dei suoi vini. Si riescono ancora a comprare a prezzi accettabili, ma amici miei, quanto è buono questo Bon Romane 2015 di Jean-Pierre Guillon. Non c'è filtrazione nei vini, molta artigianalità, in alcuni casi ancora il cavallo nelle vigne. Amici miei, un grandissimo Pinot Nero di Borgogna, siamo a Bon Romane, siamo là dove tutti vorrebbero bere e oggi beviamo questo Bon Romane 2015 di Jean-Pierre Guillon. Fatemi sapere nei commenti come trovate questa bomba di vino e ricordatevi sempre di registrarvi al nostro canale YouTube e di attivare le notifiche per essere avvisati sul prossimo video. Alla prossima amici miei!